L'hai più risentito via Skype, Whatsapp o in qualunque altro modo? No. Marco devi dirmi la verità, se no ti metti nei guai eh. Tu non puoi essere come tuo padre no? E' anche morto. Non sto cercando per il periodo che sappia molto sull'omicidio di Angelica Petroni. Tu l'hai più visto in questi giorni, sai qualcosa? Io non so niente, glielo giuro. Ti ha mai parlato del suo lavoro con Monaco? Diceva che lui si era fatto la galera. Ma era lui il vero criminale. Il benefattore della città. Perché che faceva Monaco? Non lo so esattamente. Mi ricordo che mi diceva che come tutti i ricchi comprava la gente. Una volta mi ha raccontato una storia. Che aveva pagato una per farla stare zitta. Zitta? Zitta da cosa? Non lo so. Boh. Sarebbe dovuta andare da lui per convincerla a stare buona. Per offrirle più soldi. Hai capito che la voluta in mea alta faceva questo? Ma almeno ti ricordi come si chiama questo dono? Non me l'ho detto. Se me l'ha detto non me lo ricordo. Ma almeno ti ricordo dove abitava? Boh. Ma come Boh Marco? Che ne so. Era fuori città. Boh. In un paesino. Cos'era? San Silvestro. Dai vieni qua. Mi guardiamo insieme sulla mappa. Questo paesino magari ti viene in mente qualche altra indicazione. Ok? Stop. Ok.